La Residenza Le Coste Le Coste è ubicato nel comune di La Chiarella, nella nuova zona residenziale. Ville a basso consumo energetico, dove la tecnologia è al servizio del massimo benessere abitativo. Classe energetica B La Residenza Le Coste La Residenza è caratterizzata da villette in un contesto esclusivo ed è costituito da quattro residenze. Il prezzo include Predisposizione impianto climatizzazione, predisposizione impianto antifurto, predisposizione porta basculante elettrica, zanzariere, videocitofono, portoncino blindato, punto luce ed attacco idrico nel giardino, antenna satellitare, pannello solare per acqua calva sanitaria, doppi vetri, riscaldamento autonomo a pavimento, impianti in conformità con le nuove norme relative ad isolamento termico e risparmio energetico. Box doppio Soluzioni a schiera con ingresso indipendente. Capitolato di ottimo livello. So Grazie a tutti.